Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Iniziamo il tanto atteso corso avanzato di Adobe After Effects. Il corso base è completo, disponibile sul sito internet www.fabioambrosi.it in forma di articoli e qui su questo canale YouTube che vi invito a seguire, ad iscrivervi ovviamente, ad accendere le notifiche nella versione video ovviamente. Dicevo iniziamo il corso avanzato dopo aver visto nel corso base come funziona a grandi linee After Effects. Premettendo che After Effects è un software molto complesso nel senso che ha tanti strumenti, tante funzioni e tantissime tecniche. Forse credo siano infinite le tecniche che possono essere adoperate in After Effects. Quindi quello che noi faremo nel corso avanzato è vedere alcuni strumenti avanzati di After Effects senza però avere la pretesa di esaurire l'argomento. Così come nel corso base abbiamo visto le funzioni base, quindi come funzionano i pannelli, come inserire del testo, come lavorare con le maschere, come lavorare con le composizioni, come lavorare con i livelli, i keyframe e le animazioni. Nel corso avanzato continueremo a vedere alcuni strumenti di After Effects, alcune tecniche anche semplici per creare animazione, per creare trasparenza, per creare effetti efficaci con il testo con la raccomandazione chiaramente che noi esauriremo l'argomento. Perché questo è un software, come abbiamo già detto, complesso, che richiede esperienza e anche un po' di intelligenza visiva. Spesso per fare una cosa possono esistere più strade. Non c'è una soluzione giusta, una soluzione sbagliata. Esiste la tecnica che fa al caso nostro e quella invece che magari richiede più tempo e che forse non è quella più indicata. Però ecco, questa è la premessa per il corso avanzato. Oggi vedremo, in questa prima lezione del corso avanzato, un concetto importante. Questa è forse una lezione un po' più teorica rispetto alle altre, nel senso che non faremo nulla di spettacolare con After Effects, però credo sia importante. Importante cosa parlare della trasparenza, che è alla base della computer grafica in generale, del video editing, ma è sicuramente indispensabile se volete lavorare con After Effects. Cosa si intende per trasparenza? Facciamo un esempio. Io qui ho, vediamo un po', una carta di identità. Vediamo se la ritrovo. No, la dobbiamo importare. Eccola qui. Una carta di identità, un facsimile di una carta di identità. Abbiamo imparato come scalarla. Ricordate, tasto S sulla tastiera e ingrandiamo. Se non ricordate bene queste cose, recuperate il corso base su questo canale YouTube. Dicevo, cosa si intende per trasparenza? Beh, si intende il fatto che questa carta di identità è un elemento solido che va chiaramente a coprire tutti gli elementi sottostanti. Se io importassi la mia fotografia e la mettessi in timeline, abbiamo detto che quello che sta sopra copre quello che sta sotto. E in effetti vedete che la mia fotografia è coperta dalla carta di identità. Ma non tutte le aree di questa carta di identità sono opache, quindi non mi permettono di vedere attraverso. Se fate caso, questo spazio sembra nero. In realtà è uno spazio trasparente, perché io posso vedere attraverso una sorta di finestra, ok? Il nero che vedete trae in inganno, perché anche qui se io metto la mia fotografia di lato, come potete vedere in realtà la vedo. Quando porto la mia fotografia sotto la carta di identità sparisce perché viene coperta. Ricordate la priorità dei livelli, quello che sta sopra comanda rispetto a quello che sta sotto. Quindi la fotografia è sotto, qui viene giustamente coperta, ma in quest'area torna visibile, perché questa è un'area trasparente. Il nero, come vi dicevo, inganna. Quindi come si fa a capire intanto cos'è nero veramente da quello che in realtà è trasparente? C'è una funzione, c'è un bottoncino, meglio ancora, di After Effects, che è questo qui. Quindi, eccolo qui, attiva, disattiva, griglia, trasparenza. Premendolo vedrete, ecco, quello che è trasparente da quello che non lo è, ok? Vedete quindi qui la scacchiera grigia e bianca che ci fa capire che questa è un'area trasparente, questa è un'area trasparente e ovviamente la carta di identità non lo è. Questo per capire, per intenderci su cosa intendiamo per trasparenza, no? È una porzione, un'area di immagine che lascia vedere attraverso. Può sembrare scontato, mi perdoneranno quelli che ovviamente già sanno queste cose, però è importante ricordarlo un po' per tutti, no? Anche per chi non ha minimamente idea di che cosa sia appunto la trasparenza. Ci sono diverse tecniche in After Effects, ma in generale nella computer grafica, per creare la trasparenza e le vedremo meglio nelle lezioni successive. Cercheremo di dedicare una lezione ad ogni tecnica per creare trasparenza, almeno alle tecniche principali. Ma se ci pensate bene, qualcosina già abbiamo visto nel corso base, no? Ricordate quando abbiamo parlato delle maschere, ok? Cos'è una maschera? Una maschera è qualcosa che ci permette, se vogliamo, di creare la trasparenza. Nel corso base abbiamo visto come è possibile creare una maschera selezionando il livello che vogliamo mascherare, e cliccare in questo caso sulla penna, per esempio, e andare a disegnare, per esempio, la nostra maschera. Io vado a fare un semplice disegno, vedete? Lo facciamo in maniera molto rapida, giusto per una piccola dimostrazione. Chiudo la maschera, olè! E vedete che la porzione esterna alla maschera viene nascosta, ma clicchiamo un po' il bottoncino della trasparenza, vedete? In realtà l'area esterna alla nostra maschera diventa trasparente, quindi se io per esempio tornassi e portassi ancora la mia fotografia di prima, ok? Tasto P sulla tastiera per muovere, ricordate? Vedrei ecco che quest'area è un'area trasparente che mi permette quindi di vedere attraverso, ok? Quindi immaginate di voler fare una composizione, no? Come se lavoraste con Photoshop, potete farlo anche qui con After Effects e divertirvi magari a riempire un frame con diverse porzioni di immagini. Ricorderete sicuramente che noi la maschera possiamo invertirla, adesso non torno a spiegare queste cose, ho premuto due volte il tasto M sulla tastiera, non le ripeto, recuperate il corso base, posso invertire la trasparenza e vedete che invertendo la trasparenza ciò che è dentro la maschera viene trasformata in area trasparente, ciò che invece è fuori diventa visibile, ok? Questo è un altro modo, è un modo per creare trasparenza, ovvero usare le maschere e lo abbiamo visto nel corso base di After Effects. C'è poi quello che molti di voi probabilmente conoscono, che sicuramente tutti hanno sentito dire, vale a dire il chroma key, il green screen, avete presente? Ora per un piccolo tutorial che stavo preparando oggi pomeriggio, io ho creato, questo non è proprio un green screen, è un panno verde, però è utile per farci vedere, per mostrarvi come sia possibile creare la trasparenza tramite quello che viene chiamato non tanto green screen, che è un po' forviante come nome, ma con il chroma key, ovvero la chiave colore. Qual è il principio che si nasconde dietro a questa parola? Chiave colore, no? È un po' come dice la parola, noi scegliamo un colore dell'immagine che vogliamo rendere trasparente e informiamo il software, vedi che quei pixel che sono di quel colore rendili trasparenti e quindi andiamo a creare la trasparenza. Comunemente si usa il blu e il verde screen, quindi il colore verde e il colore blu, perché sono due colori che non sono molto presenti nella carnagione umana, ok? Quindi utilizzare questi due colori sono utili per, per esempio, scontornare bene una persona. La pelle umana ha poco blu e poco verde, a meno che non siete malati, insomma, quindi tendenzialmente sono colori che possono essere sottratti con semplicità, ok? Ecco perché si usa il verde e si usa il blu, ma si potrebbe utilizzare anche il rosso, si potrebbe utilizzare anche il bianco per creare trasparenza e lo vedremo dopo, come sia possibile utilizzare il bianco e il nero per creare trasparenza. Come funziona il chroma key? Non entro nel dettaglio, ripeto, perché ci torneremo. In After Effects, in tipo di trasparenza, abbiamo il key light, questo strumento, questo tool, che ci permette appunto di selezionare un pixel, un colore, e dire, vedi, quel pixel, quei colori rende meno trasparenti. Ora, questo non era un green screen fatto bene, era un panno verde. Si può migliorare, però come potete vedere i pixel verdi, più o meno, ecco, sono diventati trasparenti. Quindi se adesso andassi a riprendere la mia fotografia, o meglio, sì, la mia carta d'identità, perché questo era quello che stavo preparando oggi in realtà, un tutorialino simpatico che vi farò vedere nei prossimi giorni, vedete che la carta d'identità va sotto alle mie mani dove c'era il verde, sostanzialmente. Quindi ho creato la trasparenza. Notate come l'ombra sia rimasta, ok? Si può fare meglio, ovviamente, ma l'ombra può essere utile per creare, per esempio, la profondità. Ma questo è un altro argomento. C'è infine un ultimo modo per creare la trasparenza, ovvero sfruttare i colori bianco e nero. Perché in generale, forse è meglio che lo faccio rivedere con il chroma key e con questo tool per, appunto, utilizzare il colore come chiave. In ultima analisi, ciò che è bianco è opaco, quindi non lascia vedere attraverso. Ciò che è nero può essere inteso come trasparente. In questo plugin, o meglio, questo software, in questo strumento, se andiamo a vedere Screen Matte, vediamo quello che stavo adesso dicendo, no? La chiave colore può essere intesa come una combinazione di nero e di bianco. Quello che è nero è trasparente, quello che è bianco è opaco, ok? Noi possiamo sfruttare questo concetto, pulisco, per creare, per esempio, delle transizioni personalizzate. Che cosa voglio dire? Guardate, ve lo faccio vedere e sono sicuro che capirete immediatamente. Creo una nuova composizione, ok? E dentro a questa nuova composizione ci vado a creare un livello a tinta unita, di colore qualsiasi, ok? Perché applicherò un effetto. Lo chiamiamo luma key. Ok. Vado ad applicare un filtro, un effetto, after effect che trovate in genera. Vediamo un attimino. Eccolo qua. Scala sfumatura. Quello che io voglio fare è sostanzialmente creare una sfumatura che vada dal nero al bianco. Ricordate quando vi ho detto che il nero è trasparente e il bianco è opaco? Bene, esattamente quello che sto intendendo adesso. Se io adesso vado a prendere una fotografia, un'immagine, per esempio questa del tavolino, della scrivania e la posiziono sotto, posso dire crea una trasparenza basandomi su questa scala. Quindi quello che è nero deve essere trasparente e quello che è bianco deve essere opaco. Ci torneremo su tutto questo. Quindi non vi preoccupate. Questa è solo una carrellata. Se vado sotto la colonna mask traccia e imposto la voce, imposto l'opzione mascherino luma, luma key, vedrete quello che intendo. Ecco qua. Quello che è nero diventa trasparente. Ricordate? Quello che è nero diventa trasparente. Quello che è bianco diventa opaco. Quindi non lascia passare la luce attraverso. Noi possiamo sfruttare questa cosa. In che modo? Beh, potremmo animare, per esempio, questa sfumatura, questa rampa, ok? Animiamo questi due parametri. Ci torneremo. Lo ripeto, non vi preoccupate. Posso partire, per esempio, da tutto bianco. Ok? Quindi è tutto assolutamente opaco. Quindi non trasparente. Ok? Far passare quasi un secondo, diciamo un secondo poco più e far diventare questa immagine tutta nera. Guardate, eh? Scendiamo. Scendiamo anche con quest'altro valore. E quindi avere un'animazione simile a questa, per capirci. Se chiaramente riattivo tutto com'era, quindi riattivo la mascherina che avevo creato prima, ecco quello che accade. Ho creato un'animazione una transizione, una transizione, sfruttando appunto il bianco e il nero. Se io sotto avessi avuto un'altra immagine, per esempio le mie mani dove sono, eccole qui, ecco quello che accade. Avrei di fatto una transizione. Ci torneremo. Tutto questo è per dirvi che si può creare, si può creare la trasparenza in diversi modi. Quindi con le maschere, quindi con il chroma key e anche con quello che viene chiamato l'uma key, quindi con il concetto del bianco opaco e il nero e trasparente. Torneremo su tutte queste tecniche e le vedremo meglio nel dettaglio e sono sicuro che capirete, anche se il concetto è già così abbastanza semplice, ma vedrete con alcuni esempi pratici quanto quello che ci stiamo dicendo sia utile e indispensabile per lavorare con After Effects. Mi fermo qui per questa lezione sulla trasparenza, sul concetto di trasparenza. Io direi in After Effects, ma quello che ci siamo detti in realtà vale un po' per tutto il mondo dell'audiovisivo. Questi concetti sono applicabili anche a Premiere, per esempio, o anche a David Media Composer o a qualunque software di grafica voi stiate utilizzando. Sono un po' concetti generici applicabili a tutto. Poi vedremo con After come lavorare con queste cose. Vi ricordo www.fabioambrosi.it è il sito, troverete gli articoli di queste lezioni. Condividete questo video con i vostri amici, mettete un like a questo video e registratevi a questo canale YouTube per non perdere le prossime clip. Cercatemi su Facebook, la pagina da seguire è Fabio Ambrosi, c'è anche Instagram, quindi venite su Instagram e cercate Fabio Ambrosi, mettete un like anche lì. Grazie al prossimo video tutorial. Ciao!